Con questo tutorial vediamo come rappresentare in forma trigonometrica un numero complesso. Consideriamo un generico numero complesso z uguale ad a più i b. La sua forma trigonometrica ha questa struttura z uguale ad r per coseno di teta più i seno di teta, dove r è uguale al valore assoluto del numero complesso, mentre teta è uguale all'arco tangente di b fratto a. Osserviamo che teta può essere determinato anche utilizzando queste altre due condizioni, ossia andando a calcolare il coseno di teta e il seno di teta, e poi dedurre attraverso l'unione di queste due condizioni, qual è l'angolo che dobbiamo considerare? Nel primo caso coseno di teta è uguale ad a fratto r, dove r è uguale alla radice quadrata di a quadro più b quadro, e nel secondo caso seno di teta è uguale a b fratto r. Vediamo ora degli esempi dove andiamo a calcolare la forma trigonometrica di un numero complesso. Consideriamo il numero z uguale radice di 3 più i. In questo caso a, ossia la parte reale, è pari a radice di 3, mentre b, che è il coefficiente della parte immaginaria, sarà pari ad 1. Infatti qui ho solo i. Andiamo ora a calcolare r, e quindi vado a scrivere r uguale alla radice quadrata di a al quadrato, ossia radice di 3 al quadrato, e quindi scrivo 3, più b al quadrato, 1 al quadrato è 1, e scrivo 1. Ora, 3 più 1 è 4, e la radice di 4 è pari a 2. Determiniamo ora teta utilizzando questa formula, e allora vado a scrivere che teta è uguale all'arco tangente di b fratto a, dove b è 1, a è radice di 3. Scrivere 1 fratto radice di 3, razionalizzando, è pari a radice di 3 su 3. E l'arco tangente di radice di 3 su 3 è pari o a pi greco sesti, ossia 30 gradi, o 7 sesti pi greco, ossia 210 gradi. Osserviamo che questo numero, radice di 3 più i, si trova nel primo quadrante, allora devo considerare questo angolo. Applicando ora questa formula, otteniamo che z è uguale a 2 per il coseno di pi greco sesti più i per il seno di pi greco sesti. Vediamo questi altri due esempi e partiamo da questo numero complesso. La prima cosa che andiamo a fare è determinare a e b. a è pari a 6 radici di 2 e b è pari a 6 radici di 2. Determiniamo ora r andando a fare la radice quadrata di a alla seconda più b alla seconda. 6 radici di 2 alla seconda è uguale a 36 per 2, ottenendo 72. E la stessa cosa vale per b e otteniamo di nuovo 72. Sommandoli si ottiene 144 e la radice di 144 è 12. Determiniamo ora θ. θ è uguale all'arco tangente di b fratto a. Ora, semplificando, si ottiene arco tangente di 1 e l'arco tangente di 1 è uguale o a pi greco quarti o a 5 quarti pi greco, ossia 45 gradi e 225 gradi. Siccome che questo numero si trova nel primo quadrante, allora l'angolo che dobbiamo considerare sarà questo. Ora possiamo andare a scrivere il numero in forma trigonometrica ed otteniamo questo risultato. Vediamo quest'altro esempio. Andiamo a determinare a e b. Essendo questo numero un numero reale, abbiamo che a è uguale a meno un quarto, mentre b vale 0. Calcoliamo ora r andando a fare la radice quadrata di a alla seconda più b alla seconda. E quindi meno un quarto alla seconda è uguale a un sedicesimo. 0 alla seconda non lo vado a riscrivere e la radice di un sedicesimo è un quarto. Determiniamo ora θ andando a fare l'arco tangente di b su a. Andiamo a scrivere arco tangente di 0 fratto meno un quarto, ma 0 fratto meno un quarto è pari a 0 e l'arco tangente di 0 è pari o a 0 o a pi greco. Siccome che il numero che otteniamo è un numero negativo che si trova tra il secondo e il terzo quadrante, allora l'angolo che dobbiamo considerare è θ2 uguale a pi greco. E allora questo numero scritto in forma trigonometrica ha questa rappresentazione. Vediamo questi altri due esempi e partiamo da questo numero complesso. Andiamo a calcolare a e b. a è pari a meno radice di 3, mentre b è uguale al coefficiente di i, ossia meno 1. Calcoliamo ora r. Meno radice di 3 al quadrato ottengo 3, meno 1 al quadrato ottengo 1, 3 più 1 è 4 e la radice di 4 è 2. Calcoliamo ora θ utilizzando questa formula e vado a scrivere arco tangente di b, ossia meno 1 fratto a, ossia meno radice di 3. Meno e meno vado a semplificare, scrivo più e poi razionalizzo scrivendo radice di 3 su 3. L'arco tangente di radice di 3 su 3 sarà pari o a pi greco sesti o a sette sesti pi greco, ossia 30 gradi o 210 gradi. Siccome che il numero si trova nel terzo quadrante, visto che a è in negativo e b è in negativo, allora dobbiamo andare a considerare θ2 uguale a sette sesti pi greco, ossia l'angolo di 210 gradi. Scriviamo ora la forma trigonometrica del numero, ottenendo questo risultato. Vediamo quest'altro esempio, determino a e b. Qui la parte reale non c'è, allora a vale 0, mentre b è il coefficiente di, ossia meno 2. Vado ora a calcolare r e quindi 0 al quadrato non lo vado a scrivere, meno 2 alla seconda ottengo 4 e la radice di 4 è 2. Vado ora a calcolare θ. In questo caso utilizzerò queste due formule perché a vale 0 e, se avessi utilizzato questa formula, avrei ottenuto uno 0 al denominatore. Coseno di θ è uguale ad a fratto r e quindi scrivo 0 fratto r, ossia 2. 0 diviso 2 è pari a 0 e il coseno di θ è uguale a 0 o a pi greco mezzi o a tre mezzi pi greco. Il seno di θ è uguale a b fratto r e quindi scrivo meno 2 fratto 2, ottenendo meno 1 e il seno è uguale a meno 1 quando l'angolo è uguale a tre mezzi. Siccome che ottengo tre mezzi per il coseno e per il seno allora θ varrà tre mezzi e allora questa sarà la forma trigonometrica di meno 2i. Vediamo questi ultimi due esempi, parto da questo e determino a e b. a è pari a un mezzo, b è pari a radice di 3 su 2. Determino ora r. Un mezzo alla seconda scrivo un quarto, radice di 3 su 2 alla seconda ottengo tre quarti. Ora un quarto più tre quarti ottengo quattro quarti, ossia 1 e la radice di 1 è 1. Determino ora θ e questa volta voglio utilizzare queste due formule che comunque possono essere sempre applicate. Coseno di θ è uguale ad a fratto r e quindi scrivo un mezzo fratto il raggio che è 1 e un mezzo diviso 1 è pari a un mezzo. Il coseno di θ è uguale a un mezzo quando θ vale o π terzi, ossia 30 gradi, oppure 5 terzi π, ossia 330 gradi. Il coseno di θ è uguale a un mezzo quando θ vale π terzi, ossia 60 gradi, oppure 5 terzi π, ossia 300 gradi. Il seno di θ è uguale a b fratto r e quindi radice di 3 su 2 fratto 1 è pari a radice di 3 su 2 e il seno di θ è uguale a radice di 3 su 2 o a π terzi, ossia 60 gradi, oppure a 2 terzi π, ossia 120 gradi. Siccome che vedo che ho π terzi per il seno e per il coseno, allora θ varrà π terzi. applicando questa formula, la scrittura trigonometrica di questo numero sarà pari a coseno di π terzi più i seno di π terzi. Vediamo quest'ultimo caso, determino a e b. Essendo un numero reale, a vale 1, mentre la parte immaginaria non c'è e vale 0. Determino ora r. Andando a fare a alla seconda più b alla seconda si ottiene radice di 1, ossia 1. Determino ora θ utilizzando questa relazione. Vado a scrivere arco tangente di b, ossia 0, fratto a, ossia 1. 0 diviso 1 ottengo 0 e l'arco tangente di 0 vale o 0 o π. Siccome che questo numero è un numero positivo, allora dobbiamo andare a considerare l'angolo θ1 uguale a 0 e questa sarà la scrittura trigonometrica di z uguale a 1. E con questo termino il tutorial sulla rappresentazione trigonometrica di numeri complessi.